La nostra fede è piuttosto tiepida, piuttosto ancorata all'abitudine che tocca la nostra vita solo parzialmente, tangenzialmente che diversità dalla missione con cui Ignazio di Loyola spediva i suoi primi dodici compagni dicendo loro andate e incendiate il mondo Molto spesso invece il nostro mondo, il cristianesimo è un po' tiepidume soprattutto in Occidente, soprattutto in Italia è un po' comprensibile, il cristiano assume sempre delle forme storiche cioè si storicizza, risulta legato a quella che è una tradizione, una cultura è tempo però questo di tirar fuori la bellezza, la grandiosità, l'ingegno la straordinarietà che ha in sé il cristianesimo Allora il Signore oggi con la parola, ormai alla fine di questo mese di agosto dà un altro colpo in maniera un po' inquietante se devo essere sincero perché? Perché Gesù dice una cosa molto semplice risponde a una domanda provocatoria di un tale che gli chiede se sono molti quelli che si salvano presumo io evidentemente pensando di fare parte del gruppo che si salvano dobbiamo capire bene quella che era la visione religiosa al tempo di Gesù come sappiamo bene esisteva diversi gruppi, diversi movimenti di persone che vivevano con grande entusiasmo con grande determinazione la fede pensiamo per esempio ai farisei Perushim questi tali che erano assolutamente convinti di essere nel giusto di essere gli unici che rispettavano non soltanto i famosi dieci comandamenti ma anche gli altri seicento che poi si erano aggiunti col passare dei secoli la cosiddetta legge orale, le mizvoti, i precetti ora un fariseo con assoluta onestà era convinto di essere nel giusto era convinto di meritarsi la salvezza perché facendo determinate cose otteneva dei risultati ora io mi chiedo e mi sono chiesto spesso mi sono anche confrontato come sia possibile che questo atteggiamento che Gesù condanna duramente e evidentemente Gesù dice che la salvezza non si merita ma si accoglie come mai poi questa cosa sia finita nel cristianesimo tale quale praticamente ora da questo tale che chiede a Gesù mentre si dirige decisamente verso Gerusalemme dice Luca cioè Gesù nel Vangelo di Luca per dieci capitoli dal nove al diciannove tira dritto ha fatto il volto duro sa che a Gerusalemme ci sarà la partita finale sa che a Gerusalemme si vedrà veramente che ha ragione se la sua visione di Dio oppure quella della tradizione quella della potere religioso che ormai era tornato a consolidarsi con la ricostruzione del Tempio pensate dopo sei secoli c'era nuovamente il sacrificio al Tempio la classe sacerdotale era tutto un rinascimento religioso Gesù sa che a Gerusalemme si giocherà lo scontro allora va direttamente questo tale che gli viene di nuovo a porre una domanda devozionistica pietistica come dire noi buoni il Signore noi bravi noi che abbiamo assolto i compiti noi che abbiamo fatto i cristiani tutta la vita noi che abbiamo sempre osservato la legge forse più per abitudine per pigrizia che per reale convincimento certamente ci salviamo e gli altri dobbiamo capire bene cosa vuol dire la salvezza la salvezza non è una cosa che ci capita dopo alla fine dei tempi quando siamo morti la salvezza è la condizione in cui possiamo dimorare all'interno della nostra vita anche se ci sono delle cose che non funzionano anche se dobbiamo continuamente confrontarci magari con dei fallimenti o con delle delusioni la salvezza nella visione evangelica inizia qui è la consapevolezza di far parte di un grande progetto è la fede fiducia che si trasforma in operatività la nostra vita cambia perché guardiamo le cose direbbe San Paolo scrutando l'invisibile fermando lo sguardo sulle cose invisibili ebbene in questa condizione in questo contesto la salvezza è una dimensione potremmo dire di felicità profonda di gioia dell'anima del saper se esistenti nel cuore di Dio perciò Gesù Gesù desidera che tutti si salvino Gesù è venuto apposta per donare la salvezza è venuto apposta perché tutti gli uomini possano sperimentare la bontà e la bellezza di Dio ma e questo è interessante Gesù dice che è una cosa seria la fede non severa seria come l'innamoramento come la paternità e la maternità come fare bene il proprio lavoro come essere cittadini onesti in un mondo in cui si esalta continuamente la la delinquenza o la furberia o la piccineria è una cosa seria si passa davvero per una porta stretta quando poi concretamente realisticamente si tratta di far calare i principi del Vangelo nelle scelte sapete finché la fede si riduce ogni tanto andare a messa firmare 5 per 1000 alla Chiesa Cattolica fatelo però alla fine della fiera cosa cambia ma quando poi mi tocca nel vivo quando mi rendo conto che avvicinarmi a questo Nazareno mi ha reso estraneo ai discorsi che le persone fanno mi fa un po' cittadino di questo mondo di serie B perché se uno è abituato all'anima all'essenziale ha scoperto tante cose dentro di sé fatica poi a passare una cena a parlare del nulla delle vacanze appena trascorse o delle sorti in cui siamo stati Gesù indica una porta stretta che è quella della coerenza che è quella della radicalità evangelica mi piace molto l'espressione che in altro modo Papa Francesco utilizza rispetto a cose che anch'io condivido basta con un cristianesimo da poltrone pantofole come dico spesso Papa Francesco dice basta con un cristianesimo da salotto da brave signore ducate discorsi da te è fuoco dicevamo domenica scorsa ecco allora che questo fuoco ci spinge anche ad attraversare un momento difficile ci obbliga anche a andare attraverso una porta stretta questo è quello che il Signore oggi ci chiede e concretamente dice in maniera interessante che addirittura ci sarà un momento di forte imbarazzo io quando lo leggo mi interrogo avete sentito a un certo punto il padrone di casa alza chiude la porta poi noi rimasti fuori cominciamo a bussare dicendo aprici aprici e gli risponderà non so di dove siete allora comincerete a dire ma abbiamo mangiato con te abbiamo parlato di te e gli scotterà la testa e dirà mi spiace ma non so proprio di dove siete che triste è una scena del genere non essere riconosciuti da colui che pensiamo di servire è un ammonimento forte proprio a noi discepoli non a quelli che a messa tutto sommato sono lì parcheggiati ma noi che in qualche modo abbiamo voluto riscoprire la profondità la grandezza e la bellezza del Vangelo a noi che in qualche modo abbiamo preso sul serio l'invito alla conversione ebbene proprio noi siamo quelli più a rischio perché santamente corriamo al rischio di essere i nuovi farisei di sentirci un po' migliori di una religione nazional popolare un po' sociale un po' di basso profilo noi dei movimenti noi dei gruppi noi delle associazioni noi che crediamo di insomma noi che scriviamo libri e che predichiamo il Vangelo dobbiamo vegliare vigilare è una cosa seria cosa seria l'incontro col Signore mi piace molto che il priore Enzo Bianchi e in generale tutta l'intuizione monastica di Bose dicano questo di riutilizzare un linguaggio usato nel passato dai padri della Chiesa quando parlavano di combattimento spirituale di lotta interiore la fede cristiana non è una colata di cemento sulla nostra vita al contrario è ciò che ci spinge allora quello che oggi Gesù dice è non pensare se ti salvi se alla fine prendi il premio se tutte le cose che hai fatto e segnalate devotamente sul taccuino alla fine ti daranno la salvezza pensa invece se sei col Signore ed è bello perché Gesù conclude dicendo che alla fine della fiera avremo delle belle sorprese troveremo nella pienezza di Dio persone che non ci aspettavamo e non troveremo persone che non ci aspettavamo e questo sarà simpatico perciò asteniamoci dal giudizio Dio solo conosce il cuore e la fede delle persone continuiamo il nostro percorso di vita interiore oggi con questa grande attenzione cioè a non abituarci alla fede a non sederci a non diventare cristiani da salotto ma lasciare che il fuoco continui a bruciare alla fine di quest'estate buona settimana a tutti